ho fatto tantissime ore, ho soffermato un poco per le persone in età, ho fatto anche parecchie volte nei circuiti sempre, superati i 100 km, non nella maratona del passatore dove tutti arrivano con le biciclette, come si è accorso, come si è verificata quest'anno e sempre. Non scopriamo gli attarini, ascolti Rigio, quanti chilometri hai? Che fai oggi, maratona o mezza? No, adesso faccio la mezza, poi finisco la mezza e mi faccio una te 10 per conto mio, aspetto gli altri amici, e dopo i 35, i 36 riesco, mi raccomando a fare, grazie, ciao, 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 che bella. La leggenda del Club Super Marathon, la leggenda delle sue 1215 maratone ultra, Tito, Piero, Ancona. Ricordiamolo che ieri ha fatto la sei ore a Vittuone Milano, ieri, ieri, stamattina stava qui, tra 4 giorni, va a fare 12 maratoni in 12 giorni a Leti, e dopo altri 2 giorni, 10 maratoni in 10 giorni in Austria, poi altri 10 maratoni in 10 giorni in Italia. E' un mito, vito, pieno, angola di umiltà, mi stiamo con la leggenda d'Italia, come valore. E niente, oggi si sentiva che è caldo, però l'ho preso una solida, un passo regolare, il tempo c'è, lo sai, io non preso più l'Italia. Poi ieri viaggiando, ieri è stato anche dure, gli sta un caldo infernale, almeno qualche anno, vero, 20 l'anno. Quindi, l'appuntamento al prossimo anno, speriamo anche, se anticipiamo un po' la mattina, un momento ancora da me.